Sansepolcro, domenica mattina. Cassonetti rovesciati, fioriere distrutte, totem di velti, panchine all'aria e pertinenze dei locali devastate, una furia cieca che si è accanita su tutto ciò che si è trovata di fronte. Così alle prime luci dell'alba si presentava il centro storico di Sansepolcro, da via 20 Settembre a via Niccolo Aggiunti. Vidoni di velti, altre fioriere spaccate. A fermare e denunciare il responsabile Carabinieri Forestali, si tratta di un 17enne che aveva trascorso la serata in un locale e che, probabilmente sotto i fumi dell'alcol, si è accanito sugli arredi della cittadina. Ad incastrarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per lui è così scattata la denuncia, dovrà rispondere del reato di danneggiamento. Vista la portata degli atti vandalici, presumibilmente il giovane non avrebbe agito da solo. I militari adesso stanno cercando di risalire ai complici per chiudere il cerchio su tutti i responsabili. Sconcerto e rabbia della cittadinanza esternato anche sui social. Come è avvenuto in passato per episodi simili, ha dichiarato il primo cittadino, Fabrizio Innocenti, inoltre la richiesta di DASP Urbano nei confronti delle persone che saranno individuate e perseguite in merito. Come sindaco, cittadino e padre di famiglia, rivolgo poi per l'ennesima volta un appello ai gestori dei locali, quello di avere particolare attenzione nel controllo della somministrazione di alcolici, specialmente nell'eventualità, come in questo caso, che i clienti siano minorenni.